Siamo qui nel quartiere di Pianura, un quartiere troppo spesso e da troppo tempo abbandonato dalle istituzioni, questo almeno è quello che i cittadini pensano in questo momento. Discutiamo qui di problemi che ormai sono atavici, ma sempre dell'ordine del giorno, come il discesso idrogeologico che determina il riversamento di fanghi e detriti per le strade. Questo ne comporta danni a cittadini ed attività, principalmente quello che ne risulta è un blocco della viabilità e della vivibilità di un quartiere. Adesso intervistiamo il consigliere Giorgio Birra della Nona Municipalità di Napoli. Il discesso idrogeologico è uno dei tanti problemi che attanagli il nostro territorio. Negli anni scorso furono costruite delle vasche che, ahimè, poi furono interdotti i lavori e al momento non sono ancora completate. Alcune sono collegate, altre no. Le quali vasche, fortunatamente, qualche mese fa, alcuni mesi fa, sono state svuotate finalmente grazie al lavoro che ha fatto anche l'allore Assessore Nunez. E questo ha frenato un pochettino, diciamo, i danni. Al momento stanno riprogettando le vasche, però bisogna anche che il territorio sia monitorato, perché se mentre progettano e poi vanno a realizzare i corsi d'acqua vengono deviate magari dall'abusivismo o dagli sbancamenti abusivi che si fanno sopra le colline, la situazione arriverà... non risolveremo il problema, non solo, ma aggraverà ancora di più il territorio. Alle nostre spalle abbiamo il Parco Falcone Borsellino, un fiore all'occhiello del quartiere e soprattutto un polmone per questo quartiere, che si riversa in uno stato di totale abbandono. Consigliere, cosa può dirci in merito a questo parco e ai lavori che devono essere effettuati? Abbiamo una notizia importante. Tra pochi giorni, giorno 25, si riunirà il Comitato Tecnico Scientifico per la validazione del progetto, perché sappiamo che quando un progetto supera una certa cifra c'è bisogno di un Comitato Tecnico Scientifico che poi valida il progetto. Quindi il progetto è finito. Il giorno 25 sarà validato questo Comitato, dopodiché si può procedere alla gara di appalto per la ristrutturazione del parco. Quindi diciamo che siamo in dirittura d'arrivo finalmente. Siamo qui con uno dei tanti imprenditori del quartiere, Massimo Maiorano, un nome che ormai è conosciuto veramente in tutto il mondo, medaglia d'oro e medaglia d'argento per il panettone. Qui il signor Maiorano è stato uno dei tanti costretti con le sue stesse mani a dover ripulire quelli che erano i detriti e i fanghi portati giù dalla collina dei Camaldoli. Una situazione ormai insostenibile al quale chiediamo qual è il vostro timore attuale? Sì, noi abbiamo paura quando piove di quello che succede perché ovviamente siamo costretti a pulire noi personalmente, ma non riusciamo più a lavorare, abbiamo paura per il nostro negozio e ci dobbiamo difendere, non possiamo fare nemmeno forniture, siamo costretti a chiudersi dentro. Chiediamo quindi risposte al consigliere Birra. Indubbiamente bisogna intervenire e intervenire con urgenza. Non possiamo lasciare i territori in questo stato, ma soprattutto noi abbiamo qui un'eccellenza del territorio che va salvaguardata. anche perché è un'azienda che adesso può soltanto crescere, nascere e svilupparsi e dobbiamo far sì che questa azienda vada avanti e progredisca come questa e tante altre, ma questa qua è un'eccellenza. vogliamo far diventare, diciamo, questa azienda che, come diceva lei, ha vinto già negli anni passati, ma quest'anno addirittura ha vinto medaglia d'argento per il panettone innovativo e medaglia d'oro per il panettone classico e medaglia d'oro, voglio dire. Questa è veramente una cosa che ci deve far inorghidire e far riflettere. Quindi dobbiamo fare tutto il possibile per eliminare questo pericolo, oltre che per tutti i cittadini, soprattutto per queste aziende che hanno soltanto davanti un futuro radioso. In via dell'Avvenire è uno dei luoghi maggiormente colpiti dalle abbondanti piogge. Nei giorni subito dopo, al dissesto, qui, proprio alle nostre spalle, erano distese di fanghi e detriti. Come possiamo vedere c'è stato un primo intervento da parte della pubblica amministrazione per ripulire quelli che erano i rimanenti della pioggia. Quali interventi sono stati effettuati su questo luogo? Allora, nell'immediato qui è intervenuto ABC, perché come vediamo qui c'è una conetta, praticamente c'è un ribassamento della strada e dove praticamente poi si raccoglie maggiormente il fango. I cittadini si sono lamentati, addirittura avevano paura di un dissesto del fabbricato, per cui in questo posto qua è intervenuto ABC che si ha ripulito e sta facendo le verifiche, magari anche per apportare qualche modifica all'impianto fognario. Come vediamo i fanghi qua sono stati dimossi, ma perché noi chiamammo dei volontari, dei cittadini, degli imprenditori che intervennero con mezzi propri e i fanghi sono stati accantonati, come li vediamo lì nel parcheggio, in attesa poi di essere smaltiti nel modo giusto e dovuto. Come possiamo vedere è qui che sono stati ammassati tutti i detriti che erano riversi per le strade. Naturalmente sono qui in attesa appunto dello smaltimento, ma questi con le temperature più calde andranno a diventare delle polveri che i cittadini respirano. Quindi attendiamo ancora dei miglioramenti per questo quartiere che aspetta ancora di avere l'eliminazione totale di tutti i detriti. Da Pianura è tutto, un cordiale saluto, grazie a ritrovato.